Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Dylan Dog. Serie regolare. Ritorna Roberto Ricchioni questa volta solo alla sceneggiatura e non alla curatela per il numero 444 di Dylan Dog, con i disegni di Corrado Roy, morte in 16 noni. Sigla. Devo ammetterlo, ero molto molto curioso di leggere questa storia per i motivi più disparati. Ovviamente c'è il motivo Ricchioni che torna alla scrittura, alla sola scrittura di Dylan Dog sotto un'altra curatela. Questa cosa mi ha incuriosito molto fin dalla prefazione, ormai queste nuove prefazioni di Barbara Baraldi si fanno attendere come i fumetti stessi, ma è perché siamo appunto in questa fase di cambiamento, nel momento in cui poi, diciamo, le acque o le onde, le increspature del lago si fermeranno, poi probabilmente tornerò ad attendere quantomeno solo la storia interna. Però sono molto felice di vedere come ha presentato appunto la storia in sé, senza soffermarsi troppo sul fatto che appunto è stato l'ex curatore, perché appunto sennò poi si fa sempre polemica, bla bla bla, quindi con la classe che contraddistingue la Baraldi, si va proprio a parlare di questa storia e ci, diciamo, ci dà anche un piccolo trailer con la sua prefazione di quello che andremo a vedere, perché devo dire che Morte in sedici noni è un titolo che dice tutto e dice niente, un titolo perfettamente ricchioniano, un titolo che già adoro, ma che non spiega cosa andiamo a vedere, e lo spiega la Baraldi, dicendoci che appunto la storia parla o comunque ruota attorno a un quadro. E già io che più o meno so cos'è il sedici noni, in teoria al giorno d'oggi lo dovremmo sapere tutti, però nel caso c'è qualche, qualcuno all'ascolto, poco, avvezzo alla tecnologia, il sedici noni è il rapporto, questo numero rapporto, vabbè, il sedici noni è il rapporto tra base e altezza, in questo caso tra, sì, giusto, l'ho detto giusto, tra base e altezza di qualcosa, che può essere una tavola, che può essere un quadro, ma non è questo il caso tra l'altro, come può essere questa inquadratura, o il vostro televisore, il vostro televisore ha un rapporto base-altezza di sedici noni, ogni sedici centimetri orizzontali ce ne sono nove verticali, più semplice di così, non so come dirlo, alcuni vostri cellulari sono in diciotto noni in questo momento, ovvero sono lunghi il doppio di quanto sono larghi, ma sui televisori non ho alcun dubbio. Quindi che cos'è in sedici noni, oltre alla morte, se non c'è appunto una tela, un quadro in sedici noni, in sedici noni sono tutte le vignette di questo numero, ogni tavola è composta da tre vignette in sedici noni, come so che sono sedici noni e non diciotto noni, ci ho appoggiato sopra il mio cellulare, che è in sedici noni. Ogni tavola è in sedici noni, ho apprezzato tantissimo la regia di Roberto Ricchioni da questo punto di vista, che ha voluto tenere fede nella struttura registica, appunto a quello che voleva veicolare, ecco, anche quando c'è una splash page, che adesso sto cercando di andare a recuperare magari senza fare troppi spoiler, sì, è il quadro, quindi è un quadro, è una scena che devo un attimino coprire forse, perché non so bene com'è la politica di YouTube, quindi vediamo cosa posso fare per coprirla. Ecco fatto, mettiamo così, mi perdoneranno i puristi del fumetto se faccio questa cosa, però ecco qua, questa è una splash page, ma è separata da due canaletti, di fatto rendendo anche le pagine in splash page tre vignette in sedici noni, che sono semplicemente separate appunto dal canaletto. Ecco, tutte queste scelte registiche, io le chiamo registiche perché presumo le abbia scelte Ricchioni, e abbia indirizzato Corrado Roy in questa direzione. Poi Corrado Roy invece, qua in quanto disegnatore e direttore della fotografia, uso questi termini cinematografici non a caso, ha fatto il resto, ha fatto quello che sa fare meglio, ha fatto il Corrado Roy, diciamo. Uso termini cinematografici perché si sa, la sceneggiatura di Roberto Ricchioni è sempre molto televisiva, è sempre molto cinematografica, infatti io non vedo l'ora di vedere anche come si comporterà il Ricchioni nell'ambito televisivo, nell'ambito cinematografico, dove adesso sta varcando questi nuovi lidi. E gli auguro buona fortuna da questo punto di vista. Cosa mi piace e non mi piace della sceneggiatura molto televisiva di Roberto Ricchioni? Mi piace che non siano, chissà di nuovo, che non siano quei vecchi numeri di Dylan Dogg pieni di Balloon, dove appunto ogni pagina, ogni tavola è pesante da leggere. Tant'è che, apro una piccola parentesi, mi ha stupito molto Batman Dylan Dogg da questo punto di vista, perché Dylan Dogg Batman è pieno di Balloon, quasi non sembrava un numero ricchioniano, se non fosse appunto per gli altri suoi stilemi. Questa assenza di Balloon permette proprio di entrare con calma nella storia e avere proprio anche delle inquadrature, chiamiamole così, televisive, non a caso, siamo in 16 noni, avere delle inquadrature televisive che permettono di avere dei jumpscare migliori quando si tratta appunto di spaventare, quando si tratta di horror. Quando si tratta di horror, la regia televisiva è ottima. Lo svantaggio, cioè lo svantaggio, una cosa che però può essere un'arma a doppio taglio di questa sua regia, è appunto la grande assenza di Balloon. Ora, io questo numero appunto lo stavo definendo quasi un Nafsed, un numero dove non ci sono Balloon. Ci sono dei Balloon all'inizio che sono semplicemente una cantante che sta cantando una canzone e forse sono stati messi proprio per riempire, per dare l'idea che ci siano dei Balloon, ma potevano tranquillamente non esserci. E si va avanti così per 15, 16, 17 tavole dove fondamentalmente è una gioia visiva di illustrazioni una dopo l'altra. Un fumetto che parla solo per immagini ed è un fantastico stile, a me piace. Però mi stavo domandando come è possibile, come riuscirà Roberto Recchioni, come riusciranno Roberto Recchioni e Corrado Roy con questi due anche vincoli, se vogliamo, ovvero quello di avere tante pagine sprecate senza i Balloon e avere questa autoimposizione di avere tre vignette in 16 noni per ogni fumetto. Come riusciranno a risolvere una trama così televisiva in sole 96-98 pagine? Risposta? Non ci riescono, tant'è che questo numero non finisce. Questo numero, dove c'è anche questa fantastica inquadratura finale, grazie tra l'altro Corrado Roy per questa inquadratura, la userò nei miei sogni più bagnati, dove c'è questa inquadratura, dove appunto questo personaggio femminile che è palesemente ispirato a Eva Green, invita, cioè dice dai il benvenuto a Dylan Dogg su questo piano dell'esistenza diverso dalla realtà, questo Xenon. E tant'è che io volevo aspettare e fare la recensione del numero 444 e del numero 445 tutti insieme. Ma, dato che conosco i miei polli, conosco ormai Roberto Recchioni da questo punto di vista, mi aspetto che Xenon sarà totalmente diverso. Mi aspetto che siano collegati da un certo punto di vista, ma in un certo senso siano anche molto indipendenti l'uno dall'altro. Sicuramente Xenon non sarà in 16 noni. E quindi ho detto voglio fare un video dove parlo anche proprio della struttura, della grammatica di questo numero, per poi appunto concentrarmi su Xenon nel prossimo numero. Una cosa che però mi inquieta, mi spaventa del prossimo numero, che appunto può essere indipendente da morte in 16 noni, è che non sapremo mai come andrà a finire morte in 16 noni. Cioè la mia paura è che sia un po' come il detenuto e l'ora del giudizio, dove sono due numeri collegati che in realtà sono stati collegati dopo. Ora, non è questo il caso perché questi sono stati scritti entrambi da Recchioni, voglio sperare, però mi dà l'idea che appunto che su Xenon si parli d'altro o comunque si vada a virare totalmente da quello che poteva essere un fantastico tema di questo numero. Qua in questo numero vediamo questa donna, questa Eva Green, che inizialmente pare essere in coppia con un altro vampiro, con cui conquistano, corteggiano altre coppie, in quella che inizialmente sembra un gioco di scambismo, per poi rivelarsi essere un pasto, una cena, dove appunto queste persone si cibano di questi malcapitati per vivere più a lungo. Poi scopriamo appunto che invece anche il marito stesso di questo personaggio, di questa Eva Green, si deteriora ed è lei sola a essere, diciamo, apparentemente l'immortale, no? Tra i due. Tant'è che mi viene da pensare che appunto poi la ragazza, la cliente di Dylan, una volta che il marito della vampira è stato consumato, diventi la nuova compagna di questa... di questa, io la chiamo vampira, poi si scoprirà qualcosa nel prossimo numero. Però in un certo senso è tutto... tutto ruota attorno a questo quadro, che pare assorbire in un certo senso anche il nutrirsi del sangue delle vittime. Tra l'altro io pensavo che questi tentacoli molto hentai all'inizio venissero dal quadro, invece sembra essere proprio la vampira stessa a trasformarsi in dei tentacoli che distruggono le loro vittime. E poi abbiamo scoperto appunto quando ho visto Dylan che veniva appunto condotto nella camera da letto di queste ormai due donne, ho detto non ci può fare l'amore perché se no muore. Quando vedo che anche Dylan diventa vittima di questo inglobamento, di questi tentacoli, ho detto ok, muore anche Dylan e poi viene appunto trasferito nel prossimo numero che sarà Xenon. Quindi mi viene da pensare, le persone che abbiamo visto sono morte oppure sono andate a Xenon anche loro? Oppure sono tutti morti compreso Dylan ma dato che Dylan è un essere particolare riesce a uscire da Xenon sano e salvo? Oppure dato che Dylan è stato semplicemente tra virgolette ha fagocitato questo tentacolo e è andato a Xenon senza essere smembrato come le altre vittime del quadro? Di conseguenza lui ne uscirà vivo mentre gli altri sono spacciati? Oppure salverà tutti? Io spero che queste domande abbiano risposta in Xenon. Xenon, mi viene da pensare, è appunto l'ambiente che abbiamo visto nelle ultime pagine di questo fumetto quindi dalla pagina 88 in poi ed è chiaramente l'interno del quadro l'interno del quadro che è chiaramente un'altra dimensione un altro piano dimensionale dove appunto Dylan approda e nel prossimo numero vedremo questo questo altro piano dimensionale. Sono molto curioso di leggerlo non lo so, pensavo fosse un numero molto diverso nel finale non sono deluso perché comunque sono molto incuriosito anche questo cliffhanger dal punto di vista commerciale porta curiosità quindi porta a comprare un numero dopo l'altro quindi è una bella mossa di marketing però non lo so se fosse stato autoconclusivo magari sarebbe stato più più cult negli anni a venire solo questo come appunto mi sento di dare però ecco, complimenti mi è piaciuto molto ci vediamo tra 30 giorni e vediamo cosa ne sarà di queste suggestioni cosa ci ho azzeccato cosa non ho azzeccato ditemi la vostra qua sotto nei commenti non esitate ad iscrivervi al canale e seguire la rubrica più seguita del canale che è appunto Dylan Dog io come sempre vi ringrazio per aver seguito fino alla fine del video con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video